Maltita e la delusione per aver perso il campionato di C2 all'ultimo ostacolo, i due principati dei presidenti Sbozza e Roca ha confermato il blocco lo staff. Si ripartirà dal Ditti Cascone, dall'assistente coach Romè, con molte probabilità i due potrebbero essere coadivati da Caliano. L'ex capitano quest'anno ha curato prevalentemente il settore giovanile. L'obiettivo è quello di ritentare un nuovo assalto alla C1. Il club sta inoltre organizzando un amichevole con il Wurloss, società svizzera del canton di Ergovia, vicino a Zurigo. Un match che in questi anni si è ripetuto spesso, sia nel paese elbetico che in Irpinia, figlio di un gemellaggio tra le due società nato diverse stagioni fa. Si attendono notizie della federazione per il torneo Seven. Tutto dipenderà dagli spareggi per la B e per la C. Nel caso in cui dovesse essere svolto si giocherà il 15 maggio. Il sudalizio irpino-salernitano ha inoltre la volontà di giocare in qualche torneo di beach rugby in giro per l'Italia, così come ha fatto lo scorso anno. Con l'Under-18 si continua a lavorare per migliorare la classifica di una squadra attualmente al quarto posto, mentre per fine giugno ha previsto una grande festa per l'addio di pericolo a Parco Santo Spirito.